allora io comincerai con quello che faccio per vivere e vorrei cercare di spiegare o illustrare perché l'arte contemporanea può o in alcuni casi non deve essere comprensibile contemporaneo viene da contemporà che vuol dire tutte le cose che vivono insieme quindi noi dovremmo dirci che tutta l'arte tutti di qualsiasi tipo di matrice che convive in questo periodo è arte contemporanea semplicemente perché condivide lo stesso tempo però allora quando è che noi riconosciamo un atto artistico come di pura matrice contemporanea quando questo atto rispetta le indicazioni che l'arte contemporanea moderna ci ha indicato negli ultimi tempi e l'arte contemporanea moderna ci dice che abbiamo un atto contemporaneo se c'è una performance giustamente voi mi direte vabbè ma qualsiasi artista realizza una performance ed è vero ma siamo in presenza di un atto contemporaneo puro quando tutti gli individui coinvolti in questa performance performano nell'atto di realizzarla l'artista nel momento in cui la crea e il pubblico nel momento in cui compie lo sforzo per comprendere il significato di quell'arte è questo che l'arte contemporanea di eccezionale l'arte contemporanea è qualcosa di aperto l'arte contemporanea è eccezionale perché condivide l'opportunità di partecipare all'atto creativo questo è quanto e allora sono andato ad indagare l'artista per eccellenza quello che a prescindere da come uno la pensa in ogni caso è il più grande l'indiscusso l'irraggiungibile dio e dio nel momento in cui crea il suo atto magistrale la creazione appunto lui arriva lì bello preparato ha tutte le sue cose da fare c'è il suo protocollo c'è tutto il suo formulario e ogni giorno lui mette in fila tutto il suo formulario né realizzare le cose e appartiene a questo formulario appunto la formula d'approvazione che tutti quanti conosciamo e vide che fu cosa buona e giusta ogni giorno lui ripete tutto quanto il suo protocollo le sue slide preciso perfetto e alla fine giornata e vide che era cosa giusta e vide che era cosa buona e vide che era cosa buona e vide che era cosa buona poi fa l'uomo e quando dio fa l'uomo non enuncia la formula d'approvazione non lo fa lui non dice e vide che era cosa buona non lo dice lo dice soltanto in seguito ma si capisce chiaramente che era in relazione a tutto il creato quando dio fa l'uomo lui crea ad amo poi fa un passo indietro se lo guarda non lo convince non mi somiglia per niente e allora che faccio ne faccio un altro o sai che cioè ricomincio da capo tanto tra una settimana ho finito oppure 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 mio padre ha smesso di giocare con me che avevo quattro anni smise di giocare con me perché un giorno mentre giocavamo alla lotta gli ho dato un pugno l'esperienza affettiva di mio padre non poteva concedergli nient'altro che quello la stessa esperienza affettiva fece sì che da lì a poco mio padre si convincesse che io fossi un deficiente e per un periodo anch'io mio padre è venuto a vedere soltanto tre spettacoli in vita mia ne ho fatti 50 ne è venuti a vedere tre e credo che fosse oltretutto sempre lo stesso mia madre è venuta a vederne uno ed è venuta perché c'era un attore famoso in platea la prima volta che mio padre è venuto a vedermi a teatro è stato grazie a mio fratello Giancarlo mi ha approfittato di un momento di distrazione l'ha preso l'ha portato in un teatro romano molto rinomato mi avevo lasciato due poltroni e due poltronissime loro sono venuti si sono seduti là mio padre si siede si guarda attorno il teatro era gremito si guarda un po' attorno dopo un po' si gira mio fratello gli fa senti ma ma chi c'è stasera qua e mio fratello gli fa papà c'è Enzo dopo un po' li continua a guardarsi attorno sì vabbè ma chi c'è con Enzo stasera qua con chi lavora Enzo e mio fratello gli fa papà lo spettacolo è di Enzo c'è Enzo stasera qua e allora lui continua a guardarsi tutte queste signore della Roma bene dopo di che proprio non ce la fa più tipo sbotta si gira mio fratello gli fa e tutta questa gente è venuta a vedere io quella sera io quella sera lo avrei colpito io quella sera mi sarei vendicato di anni di lunghissima indifferenza ero pronto cattivo predatore perfetto vado sul palco faccio la mia roba finisce lo spettacolo scendo giù in platea attraverso questa platea non curandomi di alcune persone che erano rimaste là punto dritto verso mio padre cattivissimo lo volevo punire arrivo lì lo guardo in faccia e questo mio padre pianse tutto il tempo senza dire una parola e metteva soltanto il suo solito suono gutturale quel giorno quello che faccio aveva aperto una porta davanti a me mio padre e adesso dovevamo decidere noi se prima o poi avremmo voluto attraversarla o no di lì in poi avvennero poche cose quasi niente siamo andati avanti con una sola su una solità gentile educata indifferenza però sapevamo che quella porta era lì aperta e che non potevamo ignorarlo quando fu il momento grazie a dio mio padre aspettò che io tornassi dagli Stati Uniti l'ho portato io in ospedale era la mattina del Natale del 2013 da lì è partita una lunghissima degenza sulla quale siamo stati in grado di dirci qualche cosa tra cui la notizia dell'arrivo di mio figlio poi un giorno ho cominciato a fare una cosa che non mi piace sulla quale devo migliorare ancora non ci riesco ho cominciato a lamentarmi ho cominciato a lamentarmi della vita del teatro del fusorario dei viaggi della stanchezza dei soldi che non ci sono della gente che non va a teatro di quelli che vanno a teatro pur non capendo nulla insomma mi lamentavo in maniera molto mediocre e mio padre mi fa senti e mio padre non cominciava i discorsi con senti mio padre di solito iniziava con mi disse senti pensa quello che vuoi di quello che vuoi ma io questa cosa non te la voglio sentir dire perché se non era per la danza io non ti avrei mai conosciuto gli ultimi giorni lo portarono in terapia intensiva gli misero una maschera in faccia che gli spingeva l'aria a pressione nei polmoni e io capì che quello era il momento di varcare quella porta altrimenti non avremmo avuto più tempo allora mi misero la mia mascherina che all'epoca non era di moda il mio cappellino camice copriscarpe entro nella camera di mio padre e faccio la cosa più dura che abbia mai fatto in vita mia ho cominciato ad accarezzargli la testa e l'uomo che era stato mio padre per tutta la vita era diventato il mio papà poi ho detto se devi andare vai vai immagino che tu abbia questo cruccio sappi che sei stato un buon papà a modo tuo ma sicuramente non potevi fare meglio di quello che hai fatto ci saranno delle scartoffe non ti preoccupare ci pensiamo io e Giancarlo staremo più vicini possibile a mamma anche se si lamenterà che non ci siamo mai i soldi non sono un problema non li abbiamo mai avuti se devi andare vai e non aver paura perché di là c'è il sole e poi ho detto ti voglio bene allora questo vecchio che fa apre gli occhi da sotto la maschera mi guarda con la coda dell'occhio stende le braccia si aggrappa con tutta la forza al corrimano del letto si contrae fa uno sforzo enorme si tira su si stava si stava ammazzando per dirmi anch'io io mi metto paura gli metto una mano sul petto lo riporto giù e dico oh 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 non preoccuparti lo so lo so sono state le ultime parole che mio padre non mi ha detto l'ho baciato più da morto che da vivo letteralmente letteralmente dopo che gli ho dato il primo bacio sentì che quel corpo era caldo la vita era andata via ma non era ancora arrivata la morte e io ho cominciato a baciarlo l'ho baciato l'ho baciato ripetutamente dappertutto gli occhi le orecchie ho baciato la bocca di mio padre ho baciato la bocca di mio padre quando mio padre era morto l'ho baciato più da morto che da vivo se siete in tempo non commettete lo stesso errore dopo qualche mese è nato mio figlio Emanuele l'umanità non si evolve diventiamo solo più tecnici ma dagli egizi ad oggi c'è gente come me che non è capace di baciare il proprio padre quando è ancora in vita non vi dico che camminare è facile non ve lo dico perché non lo è ma è solo camminando che andiamo incontro al futuro solo camminando succede qualcosa il Talmud, il libro degli ebrei dice che ci sono tre cose che anticipano il futuro anticipano il futuro la prima, il sabato, lo Shabbat lo stare, fermarsi stare con le persone che vogliamo bene fermarsi stare con noi e riconoscerci la seconda cosa è la luce del giorno perché la luce oggi era diversa da ieri, domani sarà diversa sarà la stessa cosa per l'aria sarà la stessa cosa per l'acqua soltanto noi uomini rimaniamo fermi su granitiche posizioni che ci impediscono di baciare i nostri padri quando sono ancora in vita la terza è il tocco del corpo un bacio anticipa il futuro una carezza anticipa il futuro un abbraccio anticipa il futuro cose piccolissime delicatissime ma rimangono l'unica vera opportunità che abbiamo sapete perché Adamo non fa un secondo uomo? perché non voleva che nessuno potesse dire mio padre è più grande del tuo e quando Dio decide di avere un rapporto vero con Adamo dopo aver sbrigato delle cose di carattere pratico mangia questo, mangia quello mi raccomando, quell'albero no quando decide di avere un rapporto con Adamo il primo verbo che usa è potere Dio va ad Adamo e gli dice tu puoi puoi nominare le piante, gli animali puoi mangiarne quando Dio decide di avere un rapporto con quest'uomo che non l'aveva convinto gli dice tu puoi e a me piace da immorire l'idea che Dio dando questa possibilità ad Adamo non fa altro che dare una possibilità a se stesso riguardo questa cosa che non l'aveva convinto tu puoi tu puoi tu puoi tu puoi tu puoi è per quello che siamo qui è per quello che siamo qui per onorare questa possibilità e siamo qui a parlare di confini perché vogliamo essere sicuri che nessuna terra sia a noi bandita per poter onorare questa possibilità vogliamo siamo qui per essere sicuri che dovunque noi troviamo un terreno fertile al nostro seme noi si possa andare lì a seminare perché questo eco di questo tu puoi arriva fino a noi oggi però c'è un confine che rimane ancora una frontiera e secondo me è il confine che abbiamo dentro questo confine che siamo chiamati ad attraversare in solitaria non come comunità non come comunità da soli il confine che abbiamo dentro perché mentre siamo qua a ragionare di terra perché ci sarà prima o poi ovviamente il confine della terra da valicare perché tutti torneremo terra c'è una bella differenza che terra torneremo se terra disperata o terra innamorata grazie